Io come giocatore diciamo che il mio fisico mi permette di giocare anche sulle palle alte, di recuperare palloni aeri, però insomma una cosa che mi piace qua e che mi piace fare è giocare, quindi partecipare alla manovra e penso che sia il posto giusto dove posso far bene e sicuramente dove il mister può darmi una mano a migliorare proprio come giocatore e anche le mie caratteristiche non da palleggiatore perché non sono una mezzana, non sono un centrocampista, però di migliorare sul piano del palleggio e partire da dietro e poi insomma anche difensivamente perché lavoriamo un sacco sulla linea. Se posso darmi un pregio come giocatore è che non mollo, sono uno che non molla, poi gli errori possono capitare a tutti ma sia nel bene che nel male non sono uno che molla. Mi sono allenato fino all'altro giorno, quindi tutti i giorni e quindi sono pronto, poi magari quello che vuole il mister sicuramente intendo tatticamente è impossibile apprendere in due giorni quello che vuole, però ovviamente se decidesse di mettermi in campo da subito fisicamente sto bene.